ciao manutentori bentornati nel mio garage io sono stefano questo sarà il primo video diciamo di una serie magari non saranno consecutivi ma sarà una serie dedicata alla cura delle batterie in questo caso chiaramente delle batterie d'avviamento in particolar modo delle batterie tradizionali cosiddette a piombo acido o ad acido libero con qualche diciamo puntatina sulle batterie agm che sono quelle utilizzate sulla maggior parte delle start e stop alcune auto start e stop utilizzano invece batterie efb in particolare quelle del gruppo fiat che sono delle piombo acido libero cosiddette heavy duty o anche dette rinforzate perché appunto forniscono maggior spunto e garantiscono diciamo un numero maggiore di avviamenti rispetto alle batterie tradizionali e quindi vengono utilizzate sulle start e stop ora le batterie hanno una capacità questa che qui per esempio è una 45 ampere ora ma hanno anche una corrente di spunto questa per esempio dichiara 380 ampere di spunto la corrente di spunto è quasi diciamo il parametro più importante per le batterie di avviamento dei veicoli mentre non ha nessuna importanza per le batterie dei camper quelle per il fotovoltaico che sono sempre batterie al piombo al piombo acido libero ma dello spunto non se ne fanno niente anche le batterie dei muletti batterie da trazione vengono chiamate mentre queste sono batterie di avviamento oggi vedremo un sistema per monitorare per controllare lo stato di salute della nostra batteria di avviamento questo apparecchio così come altri due che ho provato in passato e poi vi lascerò il video qua sopra e uno è questo qua ho coperto la marca lo prenderò come riferimento perché questo l'avevo già confrontato con apparecchi professionali che vengono utilizzati nelle officine davano risultati molto simili in ogni caso vi dicevo sarà il primo video partiamo dalla recensione di questo apparecchio per spiegare un po di cose e poi seguiremo in particolare questa batteria la seguiremo per una serie di interventi che farò e che sono volti diciamo a tentare di recuperarla perché so già che questa batteria non è in buone condizioni oggi con questo apparecchio proveremo una batteria in cattive condizioni e poi una in buone condizioni che attualmente è montata sulla mia appunto che tra l'altro l'ho appena recuperata perché non era tanto messa bene neanche quella ma con una serie di interventi l'ho recuperata e quindi i video successivi saranno proprio volti a farvi vedere quali interventi andare a mettere in opera per recuperare o almeno tentare di recuperare batterie di avviamento stanche non sempre cambiare la batteria è necessario qualcuno mi dice ma perché mi devo stare a sbattere a cambio ok è un discorso un po lungo oltre al discorso economico che potrà anche non essere rilevante per alcuni c'è anche un discorso ecologico diciamo consumare un po di corrente per fare delle cariche per fare dei cicli di desolfattazione visto già anticipando cosa faremo potrebbe magari essere preferibile piuttosto che immettere un blocco di sostanze altamente inquinanti nel ciclo dei rifiuti è vero che poi vengono riciclate ma meno ne immettiamo meglio è andiamo a cominciare ma prima sigla ecco qua la scatola del nostro apparecchio si chiama bm 580 è un tester per batterie di avviamento ripeto ci sono alcune caratteristiche scritte andiamo a leggerle test dello stato di carica dello stato di salute delle batterie test di carica da parte del veicolo test di avviamento test di carico forma d'onda della batteria in tempo reale multimetro in realtà è un voltmetro comunque e supporto multilingue qua dice che di colore nero che ha un display da 2,4 pollici stranamente poi nelle istruzioni dice che da 1,8 poco cambia ha un bel display a colori comunque tft due morsetti a coccodrillo può operare da 5 a 20 volt perché può anche essere utilizzato per batterie da 6 volt quelle dei ciclomotori o dei vecchi veicoli può operare da meno 20 a più 65 gradi gentigradi abbiamo una marcatura ce vera fcc rox eccetera eccetera is made in china ovviamente protezione contro il sopravvoltaggio in ingresso quindi ed è protetto da inversione di polarità apriamolo eccolo qua questo è il nostro apparecchio della king bowling e c'è dentro un manualetto bellissimo e molto completo purtroppo solo in inglese ma è veramente ben fatto spiega un sacco di cose che io avevo già imparato cercando 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 su internet e qui trovo tante delle cose che avevo studiato io raccolte in questo manualetto veramente bello peccato appunto che si sono in inglese l'apparecchio in realtà nel funzionamento base è molto semplice e vediamo subito come funziona lo colleghiamo ai morsetti della batteria questo morsetto è un po deteriorato l'avevo pulito di recente ma tende ad ossidarsi facilmente ed è anche questo un segnale che la batteria non è buone condizioni comunque prima di andare a collegare qualsiasi morsetto di qualsiasi apparecchio o dell'auto a una batteria puliamo sempre i poli ho usato una paglietta da carrozziere ma una spazzola metallica va benissimo connettiamo positivo negativo ecco lui mi dice clips ok approviamo per curiosità a invertirle mettiamo il negativo sul positivo e positivo sul negativo lui si accende lo stesso funziona anche a polarità invertite adesso vi spiego tutto comunque mettiamolo con le polarità giuste perché sul libretto di istruzioni c'è scritto che con le polarità corrette il test sarà più accurato abbiamo livello allora intanto quando vi arriva in inglese io l'ho già impostato in italiano anzi vediamo subito come si fa si va su setting troverete qua scritto setting con le frecce ci si muove si fa ok troverete language ok e poi troverete le varie lingue adesso c'è già italiano quindi confermiamo italiano si scorre con le frecce e si conferma con ok il rosso invece serve per ritornare al menu precedente quindi appunto con il rosso ritorniamo al precedente ecco non è a loop quindi se io continuo a schiacciare frecce in giù lui non andrà oltre invece che ricominciare quindi dovrò ritornare su e vediamo livello batteria quindi il test della batteria e facciamolo ok ci fa scegliere 6 12 volte scegliamo 12 volte in questo caso test veloce nel veicolo fuori dal veicolo allora il test veloce è un test un po approssimativo che ci dà un'idea dello stato di salute della batteria ma non così preciso però proviamo a farlo test veloce si prega di confermare che il motore è spento altrimenti il risultato del test sarà influenzato e mettere il valore in ampere ora sull'etichetta della batteria in questo caso è una 45 ampere ora e già li abbiamo impostati prima facciamolo partire 31 per cento la batteria qui è scritto in piccolo ve lo leggo io 12,25 volte quindi abbastanza scarica e lui mi dice standard 360 ampere in effetti non è andato molto lontano perché questo è una 380 ampere dichiarati quindi anche col test veloce riusciamo ad avere un'idea abbastanza precisa tutto sommato di che tipo di batteria abbiamo tra le mani e dice resistenza 12,77 mili ohm questo apparecchio per fare il test si basa sul cosiddetto metodo kelvin che ha come parametro principale appunto la resistenza interna della batteria notare che si parla di milli ohm quindi molto difficile che ci sia un tester di quelli un multimetro classico che ci permetta di misurare grandezze così piccole i mili ohm adesso facciamo lo stesso test con quella che loro chiamano modalità precisa quindi torniamo indietro ok quindi scegliamo fuori dal veicolo perché ce l'abbiamo qua sul banco la differenza in realtà è poca ma nel veicolo tiene conto che potrebbero esserci piccoli assorbimenti regolare allagato ecco qui la traduzione italiano era quasi quasi voglio leggere l'inglese regolare allagato vuol dire regola in inglese è regular fluid cioè vuol dire ad acido libero l'hanno tradotto in maniera molto maccheronica vabbè piatto piano agm e poi c'è anche piatto fondo comunque agm a celle piane agm a spirale ok gel e fb provo a misurare questa che non è una fb però proviamo a misurare come fb qui mi chiede lo standard di misurazione allora l'ho già spiegato in altri video provo a rispiegarvelo quando voi acquistate una batteria trovate gli ampere di spunto e di solito tutti noi ci basiamo sul numero brutto così 380 ampere wow e questa è una 45 per ora se vado sulla batteria montata nella mia punto che in realtà era quella che era montata sulla tipo una batteria mopar originale in realtà poi prodotta dall'ex side tramite una sua collegata turca insomma troveremo scritto 250 ampere ed è una 50 per ora quindi più capacità di questa minore spunto non è proprio così perché lì c'è scritto 250 ampere i e c qui invece c'è scritto 380 ampere senza specificare nulla allora se non è specificato nulla la norma di riferimento è la norma e n che è la norma europea diciamo che viene utilizzata per la maggior parte delle batterie di solito batterie magari un po più tra virgolette serie blasonate di questa avranno la specifica e n1 oppure n2 quelle meno blasonate se vogliamo comunque in generale dato che tutti guardiamo la cifra c'è scritto solo n e n da solo vuol dire n1 ora tutti gli standard che sono scritti qua cc a i e c e n din c a b c m c a sa e sono tutti metodi per misurare lo spunto di una batteria che cosa cambia le pretese il metodo n pretende che la batteria fornisca un tot di ampere per un certo tempo ora non mi ricordo esattamente quanto ma mi pare che siano forse 30 secondi o 10 secondi una cosa del genere entro quei 10 secondi la tensione della batteria non deve scendere sotto una certa soglia mettiamo 9 volt top se scende sotto i 9 volt allora si abbassa la corrente di prova alla fine diciamo il metodo n è quello meno restrittivo din iec sae sono più restrittivi perché pretendono diciamo che la corrente venga mantenuta per un tempo superiore quindi potrebbero essere 30 secondi invece che 10 ora non ha molta importanza sappiate che non potete basarvi sul solo numero dipende da come è stato misurato quel numero quindi in questo caso non abbiamo scritto nulla sulla batteria abbiamo scritto solo 380 ampere e prendiamo per buono che sicuramente questi ampere sono stati misurati col metodo n anche perché la batteria fatta in italia e allora noi scegliamo il metodo n selezionato il metodo n gli diamo ok e lui ci chiede quanti ampere parte da 500 scendiamo 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 380 e diamogli ok e lui in un attimo ci dà uno stato di salute della batteria del 23 per cento una resistenza interna di 12,76 milliom la tensione di 12,24 stand attaccato siccome qualcosa consuma vedete che lui si alimenta con la stessa batteria e la tensione già leggermente scesa e lui ci dice che in realtà questa batteria al momento può erogare 180 ampere di spunto quindi ha uno stato di salute molto basso tenteremo poi nei video successivi di farla tornare in forma vedremo se ci riusciremo e quanto ci riusciremo perché un po sono sicuro che riusciremo a recuperarla vedremo quanto ora andiamo a vedere un altro test che si può verificare a batteria estratta dal veicolo e poi andremo a fare un paio di test invece sul veicolo torniamo alla schermata iniziale e guardiamo la forma d'onda ecco viene spontaneo per andare avanti di schiacciare ok in realtà no dovete schiacciare su e giù forma d'onda ecco qua lui mi dice che questa batteria ha una tensione perfettamente stabile né più né meno ma questo è utile anche per vedere quando il motore in moto le oscillazioni in modo grafico nel momento in cui premo il tasto rosso lui si ferma e mi va a memorizzare la forma d'onda vado su revisione riproduzione della forma d'onda ok waveform ne avevo già registrate altre l'ultima è la 3 ok ok per riprodurre back per uscire e lui mi riproduce la forma d'onda che io ho registrato poi ancora batteria staccata dal veicolo possiamo andare a vedere il multimetro 12 volt ecco qua compare una schermata abbastanza articolata che ci dice che la batteria è qui a questo livello 12 volt e qualcosa ed è nella fascia ok vediamo le impostazioni abbiamo lingua test di autoverifica che significa poi andare a controllare se l'apparecchio funziona proviamo display test e lui ci fa tutti i colori per vedere se ci sono pixel vasti cose del genere e finché non ha finito non si può interrompere test della tastiera è come un po quello che ci fanno i telefonini per vedere se funziona tutto su giù enter esc tutto ok bip test ok io l'ho disinserito il bip perché soprattutto quando la batteria è guasta cioè poco è in uno stato di salute precario inizia a suonare una fisce più quindi disinserito ma sappiate che potete inserirlo e lo avrete ad ogni pressione di tasto e anche ad ogni eccolo qua cicalino ok sopra anziché on la tradotto con sopra va bene adesso abbiamo il cicalino infine a chi piace il chiaro abbiamo anche il tema chiaro io preferisco il tema scuro però magari per il video potrebbe anche essere utile lasciarlo in chiaro ok usciamo e andiamo sul veicolo bene proviamo il nostro king bollen sulla batteria dell'appunto che stando a quello che mi dicevano altri tester che ho dovrebbe avere uno stato di salute molto buono vediamo cosa dice lui eccolo che si è acceso livello batteria 12 volt ora se noi scegliamo nel veicolo lui ci presenta oltre al test della batteria anche altri tipi di test possiamo fare anche così anche se il polo negativo è staccato quindi potrei tranquillamente mettere fuori dal veicolo ma cambia veramente poco anzi niente per quanto riguarda test della batteria poi vedremo gli altri test test della batteria si prega di assicurarsi che il motore si è spento regolare allagato in questo caso i e c perché lo standard dichiarato per questa batteria e i e c il valore di 250 ampere l'avevo già segnato prima diamole ok e ci dice che sì la batteria è buona ma ha solo un 66 per cento di stato di salute con una resistenza interna di 7,58 milliohm e una corrente di spunto stimata dall'apparecchio di 203 ampere contro i 250 di targa con quest'altro apparecchio e poi ne ho provato un altro ancora e mi dà praticamente lo stesso risultato di questo azzurro vediamo cosa viene fuori test della batteria batteria regular non è n ma io voglio i e c ok 250 per ok mi dice sano 84 per cento 235 ampere resistenza interna 7,97 milliohm quindi leggermente più alta in realtà più alta è la resistenza interna peggiore dovrebbe essere lo stato della batteria però questo mi dice che lo stato di salute della batteria è migliore di quanto non mi dichiari il king bollen sono differenze abbastanza fisiologiche in realtà ogni apparecchio ha dei suoi calcoli dei suoi algoritmi questo anche in base a quello che scrivono sul manuale di istruzioni a un sistema che dovrebbe essere piuttosto accurato anche se in realtà fa un po la voce fuori dal corno nel senso che un po pessimista quando le batterie sono abbastanza basse compromesse dalla stessa percentuale degli altri apparecchi quando invece la batteria è buona stranamente mi dà una percentuale più bassa comunque diciamo che mi dice che in ogni caso che la batteria è più che sufficiente a far partire il veicolo adesso proviamo a fare qualche altro test test della forma d'onda però prima devo collegare la batteria bene accendiamo il motore intanto che lei sta andando vediamo cosa succede ecco qua si può vedere c'è stato un calo di tensione poi la tensione è salita però non ha praticamente ripple vedete che è estremamente regolare il grafico torniamo indietro test di ricarica ora mi dice che siamo tra i 14 ok test mette in moto mantenere tra 2005 e 3500 e premere ok dai risultato normale ok caricato cioè sotto carico 14 02 a senza carico 14 24 ok torniamo indietro e facciamo test di avviamento ok spegnere il motore ok avvia il motore tempo 70 706 millisecondi abilità iniziale la chiama lui normale voltaggio 11 79 quindi ci siamo vuol dire che la tensione è scesa soltanto di un volt durante l'avviamento sopra i 9 volte e mezzo siamo praticamente a posto sotto i 9 volte e mezzo vuol dire che la batteria non tiene più lo spunto questa qua va bene quindi oltre al alla prova della batteria in sé è utile anche fare questo tipo di prova infine test di carico pieno carico mantenere dal 2000 2005 e premere ok proviamo perfetto mi dice minimo 1387 capacità di carico buona quindi vuol dire che l'alternatore di quest'auto non ha problemi spegniamo torniamo indietro e andiamo a vedere record questo è l'ultimo rilevamento eseguito sulla batteria se invece torno indietro e vado su revisione mi fa vedere l'ultima forma d'onda che ho rilevato e mi riproduce l'andamento temporale della forma d'onda adesso tra qualche secondo dovremo vedere lo scalino dell'avviamento eccolo dopodiché tac vedete che ha fatto un ripple una l'onda è andata su e giù diciamo dopodiché si è alzato il livello ed è perfettamente stabile andiamo per le conclusioni e quindi cosa dobbiamo dire del nostro king bowling è un bel apparecchio con tante funzioni un bellissimo display a colori un bellissimo manuale di istruzioni che spiega veramente tante cose a patto di capire l'inglese proverò ad informarmi con chi me l'ha mandato se c'è la possibilità di avere o scaricare il manuale in italiano unico se vogliamo problema che ha notato è che è un po pessimista nella valutazione dello stato di salute della batteria tramite il metodo kelvin cioè quello a vuoto diciamo con la batteria staccata mentre per quanto riguarda i test di avviamento i test del ripple cioè della forma d'onda e il test a carico eccetera ho visto che da gli stessi risultati di degli altri tester che avevo provato prima è una questione di algoritmo questo è un algoritmo un attimino più diciamo conservativo d'altronde piuttosto che rimanere a piedi è meglio magari cambiare una batteria in più oppure ricaricarla più spesso ecco lui diciamo ragiona così meglio essere un po pessimisti invece che rimanere a piedi magari ci può dare dei risultati che non ci piacciono nel senso che magari credevamo di avere un'ottima batteria lui ci dice che è così così ma diciamo che sono anche un po sfumature nel senso che alla fine bisogna sempre fare il test incrociato il test a vuoto della batteria dello spunto della batteria e il test della messa in moto quando vediamo che una batteria che lui ha reputato così così comunque mi dà 11,78 volte in avviamento vuol dire che va bene e che il suo algoritmo è un po pessimistico questo comunque vale per tutti gli apparecchi cioè non possiamo fidarci di un solo test bisogna sempre fare entrambi i test incrociati se invece abbiamo una batteria che teniamo in garage di riserva e vogliamo controllare lo stato di salute sappiamo che magari gli facciamo un po di sconto nel senso che se lui ci indica un 60 per cento aggiungiamo un 10 per cento di stato di salute ma comunque è attendibile in linea di massima soprattutto se le batterie sono un po bassine se le batterie sono quasi nuove vedo che tira via un po e non capisco perché mentre col test rapido da dei risultati sicuramente più lusinghieri ecco per la batteria quindi io spero che il video vi sia piaciuto come vi dicevo ho cercato di spiegare che alcune cose che non riguardano propriamente solo l'apparecchio ma comincio a spiegare alcune cose che vorrei poi approfondire nel corso di una serie di video sulla cura delle batterie al piombo ho visto diversi video sulla cura delle batterie chi dice una cosa chi ne dice un'altra io per anni e anni le ho sempre solo caricate poi le misuravo col multimetro e dicevo ok va bene no non è così adesso mi sono un pochino troppo incapponito con sta cosa quindi ho comprato un desolfattatore ho lì ho tutta una serie di apparecchi che un po alla volta andremo a provare alcuni li ho già anche da quasi due anni e non ho ancora fatto un video ragazzi così però ho avuto modo in queste settimane di alternarli al capezzale di una batteria che ormai è credo abbastanza irrecuperabile l'ho lasciata fuori tutto l'inverno e anche forse parte dell'estate sulla punto all'esterno all'aperto e si è solfatata irrimediabilmente in ogni caso appunto se vogliamo fare un po di test e anche prenderci cura in modo un po più approfondito della nostra batteria con questi apparecchi riusciamo a vedere almeno dove siamo arrivati invece che per ancolare un po nel buio basarci solo sulla tensione col multimetro qui abbiamo una serie di parametri molto importanti vi lascio ovviamente il link per acquistarlo e se ce l'avrò vi lascerò anche un codice di sconto vi invito poi utilizzare tutti i link che lascio per acquisti su amazon in descrizione il primo commento voi utilizzate quei link di amazon e di banggood e aiutate il canale senza spendere nulla di più venite poi ad iscrivervi al gruppo facebook il consorzio di manutentori indipendenti cmi che è stato creato sulla falsa riga diciamo come discendenza del nostro gruppo di youtubers mio di il bon di guai di salva racing e che appunto poi è diventato anche un gruppo facebook dedicato al fai da te in generale oltre che automobilistico aperto a tutti e noi ci vediamo la prossima volta ciao